Ciao a tutti bentornati per questa nuova videoricetta oggi prepareremo spaghetti al salmone affumicato e panna passiamo alla preparazione sminuzzate il salmone come se dovreste fare una tartara poi versatelo in una ciotola aggiungete un pizzico di pepe nero e aromatizzatelo con 7 cucchiai di rum cuocete la pasta con abbondante acqua salata ma questo lo sapevate già vi do un consiglio di salarla a metà cottura ora prendete una pentola aggiungete 3 cucchiai di olio e risolate la cipolla dopodiché aggiungete il salmone cuocetelo per 5 minuti in modo che il rum evapori poi aggiungete la panna e lasciatela sul fuoco per altri 5 minuti e poi spegnete e aspettate che la pasta si cuocia quando la pasta sarà cotta scolatela e aggiungetela al condimento che avete preparato mantecatela per bene e poi impiattate e voilà gli spaghetti a salmone e panna aromatizzati con il rum sono pronti per essere gustati se vi è piaciuta la ricetta mettete un like e al prossimo video grazie a tutti